A tutti buonasera e grazie di essere qui con noi. Voglio ringraziare particolarmente Stefano Rodotà di aver accettato il nostro invito. In questi anni assai poco brillanti, la voce di Stefano Rodotà è fra quelle che in questo Paese danno un messaggio intelligente, competente, lucido, serio, onesto. Sulla scena politica e culturale italiana non è frequente. Questa è la ragione per cui abbiamo voluto averlo qui in normale. Se dovessi ripercorrere le tappe del suo curriculum la faremmo troppo lunga, invece è lui che deve parlare e non io. Però vorrei ricordare almeno qualche cosa. Non solo il fatto che è professore di diritto civile a Roma, non solo il fatto che ha avuto inviti e insegnato in luoghi molto prestigiosi in Italia e all'estero, non solo le sue lauree onoris causa, ma soprattutto dei ruoli istituzionali in cui ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento. Ne cito solo alcune. Presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, Presidente del gruppo dei garanti europei, membro del gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie e ora Presidente della Commissione per i beni pubblici, Presidente dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali. E' stato deputato al Parlamento dal 79 al 94, Parlamento europeo nel 87, membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e Vice Presidente della Camera dei Deputati nel 92. E' stato anche Presidente del gruppo parlamentare della sinistra indipendente e per un breve periodo Presidente del Partito Democratico della sinistra. Tutti lo conosciamo come editorialista di vari giornali e da molto tempo della Repubblica. vorrei citare dei suoi libri, ne vorrei citare soltanto alcuni, forse solo quelli che io conosco, alla ricerca della libertà, che è del 78, Libertà e diritti in Italia dell'Unità ai nostri giorni, che è del 97, intervista su Privacy e libertà, che è del 2005, La vita e le regole tra diritto e non diritto, che è del 2006, dal soggetto alla persona, che è del 2007. In questi scritti, nella sua attività, negli editoriali, nei suoi interventi, nel suo osservarsi, nel suo osservare quello che accade, nel suo guardarsi intorno in un momento così difficile per la vita di questo Paese, si riconosce un filo costante, si riconosce una presenza e una voce importante. Grazie di essere qui con noi. Io ringrazio molto Salvatore Settis per questo invito, che mi onora molto, e che mi dà anche, come dire, un titolo da spendere nei confronti di alcuni miei illustri amici normalisti, da Carlo Ciampi a Sabino Cassese, che sono molto consapevoli della nobiltà che gli deriva dall'avere attraversato questi luoghi, e che io invece non ho avuto la fortuna di conoscere. Quindi un ringraziamento molto particolare. Naturalmente un tema così impegnativo come quello della cittadinanza e della democrazia, richiede un minimo di consapevolezza storica per avere anche gli strumenti analitici necessari per intendere anche i fatti non particolarmente edificanti che ci accompagnano in questo momento. E allora, un passo indietro, come giusto, alle prime elezioni dell'Italia Unita, 1861, vota l'1,9% della popolazione. 428.000 su 25 milioni. La ragione di tutto questo è nota ed evidente, non votano le donne, non votano gli analfabeti, non votano coloro i quali non raggiungono una minima soglia di reddito prevista dalla legge. Rispetto agli stessi maschi adulti, vota solo il 7,9% della popolazione. E dunque ci troviamo di fronte a tre nodi che caratterizzeranno poi proprio il modo in cui la cittadinanza si costruisce in democrazia. Il sesso, l'istruzione, il censo. Non è un caso che in quegli anni, e non è vicenda soltanto italiana, la soglia fissata in Inghilterra per poter votare è molto più elevata di quella italiana, ma si parli di cittadinanza censitaria. Cioè non c'è la pienezza della cittadinanza, della cittadinanza politica. La cittadinanza che è agganciata, come voi sapete, all'appartenenza a uno Stato trova però nella concretezza dei comportamenti e dei poteri dei cittadini una radicale riduzione. E però non è un tempo in cui in Italia non ci sia consapevolezza di questo tipo di problemi. C'è una cultura diversa da quella che vede nella cittadinanza un puro meccanismo dispositivo di esclusione. Perché se noi facciamo un piccolo passo avanti nel tempo e arriviamo al 1865, anno in cui viene promulgato il Codice Civile, del Regno d'Italia, il primo articolo si apre con la formula classica tipica dei codici e cioè che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita. Ma c'è un secondo comma di questo articolo che è il seguente. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini. Questa è una rivoluzione per l'epoca. Perché a quell'epoca non solo lo straniero era considerato straniero ma in questa sua qualità era escluso in via generale dalla possibilità di godere dei diritti civili poi vedremo che cosa vuol dire questa espressione in un altro paese e l'unica via per attribuirgli questa possibilità di godere dei diritti era la condizione della reciprocità. Cioè io potevo godere dei diritti civili in un altro paese soltanto se nel mio paese di origine era riconosciuto lo stesso status al cittadino di quel paese. Questo schema salta. E c'è una salta per merito di soprattutto di un giurista di grandi aperture, non solo perché insegnava diritto internazionale Pasquale Stanislao Mancini in una temperie culturale che io adesso non voglio raccontare nei dettagli ma per esempio c'è un signore che si chiamava Terenzio Mamiani che oggi credo il suo nome è solo consegnato a qualche memoria per il fatto che c'è a Roma un liceo a lui intitolato che ha una piccola sua storia particolare nelle vicende della effervescenza studentesca. Terenzio Mamiani è stato un signore molto particolare che ha attraversato varie vicende è stato ministro con Pio Nono almeno fino all'assassinio di Pellegrino Rossi ma poi con Cavour ministro della pubblica istruzione che chiama per chiara fama Giosuè Carducci alla Università di Bologna che infatti gli dedica Juvenilia Terenzio Mamiani però io lo ricordo qui perché nel 1859 cioè esattamente in quel torno d'anni pubblica un libro intitolato di un nuovo diritto europeo di un nuovo diritto europeo che all'epoca quando presiedevo il garante quando dovetti fare un omaggio natalizio a Carlo Ciampi io trovai finalmente questo libro che gli ho regalato e che avrei voluto tenere molto per me è un libro che esce nel 59 1859 nel giro di due anni a quattro edizioni ecco per misurare il fatto che in quell'epoca c'era sensibilità a questi problemi e quando si arriva a quest'articolo questo che vi ho appena letto uno dei commentatori dei primi commentatori scrive i diritti civili spettano all'uomo come tale non al solo cittadino ecco il principio grande e generoso nella sua semplicità accolto e attuato dal nostro legislatore e il ministro del guardasigilli il ministro di grazia e giustizia dell'epoca quello che seguì la codificazione Giuseppe Pisanelli dice nel 1866 che quello indicato cioè la pienezza del godimento dei diritti senza condizioni da parte dello straniero era un principio destinato a fare in breve il giro del mondo perché la tendenza dei tempi nuovi altamente invocano la solidarietà dell'umana famiglia c'era molto ottimismo perché poi non ci fu nei fatti questo tipo di diffusione e però la rottura per l'epoca è molto forte culturalmente e politicamente anticipa i temi che poi saranno quelli tipici della progressiva costruzione di una diversa idea di cittadinanza che è quella con cui abbiamo a che fare in questi tempi e quali sono questi passaggi? L'abbandono della dimensione nazionale come unico orizzonte della cittadinanza e quindi il superamento di un dato formale dell'appartenenza a uno Stato come condizione per poter godere di diritti che sono appunto un attributo dell'uomo in quanto tale come dice il commentatore c'è una dialettica uomo-cittadino attenzione perché e questo è un altro filone complesso la dichiarazione dell'89 non a caso metteva insieme i due termini la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 c'è ancora una tensione forte tra questi due termini perché ciò che il codice civile attribuisce all'uomo non è una prerogativa strettamente legata alla cittadinanza e c'è nello stesso tempo un fatto significativo perché questa attribuzione piena di diritti all'uomo era ordinariamente e nella maggior parte dei casi collegata a un dato tratto da una sorta di diritto naturale ciascuno di noi in quanto uomo si porta dietro un patrimonio di diritti e invece se voi leggete questo primo articolo del codice del 65 è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini quindi c'è la consapevolezza non del riferimento alla natura ma un dato storicamente determinato e giuridicamente fondato è il precipitato storico di un'evoluzione culturale l'insieme dei diritti di cui una persona può godere secondo la lungimirante visione di quella cultura e di quel codice quale che sia il luogo del mondo in cui si trova ma che è appunto il grande tema che noi dobbiamo affrontare affrontiamo in questa epoca e c'è poi nel commento che vi ho ricordato il commento che dice il principio del invocano quello che dice il ministro perché le tendenze ai tempi nuovi altamente invocano la solidarietà dell'umana famiglia il riferimento a questo principio di solidarietà che chiaramente poi si risolve nella struttura normativa nella riflessione sull'universalità e l'eguaglianza e quindi c'è una strategia di inclusione che è in sé alternativa e in qualche modo tendente a dissolvere l'idea della cittadinanza come esclusione il meccanismo della cittadinanza come appartenenza uno stato è una separazione è un'esclusione di tutti coloro i quali non sono cittadini di quel medesimo stato facciamo un salto arriviamo al 1939 al codice civile italiano il codice civile è complessivamente del 42 ma il suo primo libro è promulgato nel 1939 in quella temperie delle leggi razziali che sono del 38 che troviamo immediatamente riflessa nell'articolo 1 del codice civile perché se l'incipit il primo coma è esattamente identico a quello storico cioè che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita il secondo coma non solo abbandona l'idea grande e generosa del riconoscimento dei diritti allo straniero perché si torna in pieno al principio di reciprocità lo straniero non è e rimane straniero quando arriva in Italia ma si dice molto di più le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali non solo la condizione dello straniero torna a essere la condizione di straniero torna a essere meccanismo di esclusione ma il meccanismo di esclusione opera all'interno e opera nella maniera più radicale perché ciò che viene negata è la stessa capacità giuridica cioè il poter essere soggetto di diritto si diventa non persone per effetto delle leggi razziali basate sulla appartenenza appunto a determinate razze questo è il clima che si crea in quel momento questo è l'incipit del codice civile la distanza tra due idee di cittadinanza e tra due possiamo dirlo civiltà giuridiche e anche la prova della debolezza di uno degli strumenti giuridici ai quali i giuristi sono particolarmente affezionati cioè il soggetto di diritto ancora in questo momento è aperta una discussione intorno all'opportunità di continuare a riferirsi al soggetto di diritto in quanto tale o alla persona perché adesso non voglio entrare in questa che è una complessa discussione faccio solo riferimento a un libro di Roberto Esposito terza persona con il quale mi trovo a dialogare in questo periodo il dispositivo del soggetto che ancora viene impugnato come strumento di tutela è fallito in quel momento perché perché la soggettività astratta intorno alla quale faccio un solo riferimento Kelsen aveva costruito l'idea forte di soggetto di diritto si rivela impotente di fronte all'aggressione di cui quel secondo comma dell'articolo 1 del codice del 42 è la testimonianza perché quando si dice che il soggetto è l'unità personificata di norme un puro centro di imputazione di diritti o di doveri il soggetto è nelle mani del legislatore il quale potrà a suo piacimento ecco l'articolo che ci parla sono stabilite da leggi speciali può modificare lo statuto del soggetto non c'è in quel tipo di riferimento nessuna possibilità di fronte a un procedimento legislativo formalmente corretto di una opposizione in nome di qualcosa ho fatto questi due riferimenti e potrei a questo punto dire che quella che comincia soprattutto nel dopoguerra è una storia che potremmo dire guardata un po' dal nostro punto di vista come il recupero della cultura del 1865 approdando una diversa idea di cittadinanza liberata in primo luogo dal vincolo dell'appartenenza a uno stato Luigi Ferraioli che ha molto lavorato sui diritti fondamentali ha indicato e io faccio una citazione perché è particolarmente nitida il passaggio che noi dobbiamo tenere presente scrivendo che quasi tutti i diritti fondamentali eccettuati i diritti politici e taluni diritti sociali sono attribuiti dal diritto positivo sia statale che internazionale non già ai soli cittadini ma a tutte le persone poi tornerò un momento sul senso per il quale sulla ragione per la quale insistiamo oggi sul riferimento alla persona che portatrice di una corposità anche nel senso fisico che la soggettività astratta invece metteva sullo sfondo e di questo noi troviamo un segno molto netto non solo nella discussione scientifica ma per esempio se voi percorrete quella che possiamo definire la prima dichiarazione dei diritti del nuovo millennio cioè la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea i diritti e qui anche tutti i diritti sociali quindi c'è un piccolo passo oltre anche la visione ancora prudente su questo punto di Luigi Ferraglioli sono riferiti alla generalità dei soggetti certo c'è anche un capitolo dedicato alla cittadinanza ma che si riferisce sostanzialmente ai diritti politici gli altri diritti nelle formulazioni che si trovano nella carta sono riferiti a tutti non c'è cioè una limitazione ai soli cittadini dei paesi dell'Unione europea dunque quella indicazione trova un riconoscimento esplicito e naturalmente si spera che questa carta riceva il pieno valore giuridico vincolante con la ratifica del trattato di Lisbona anche se devo dire questa carta già funziona riccamente nell'esperienza giuridica europea in centinaia di sentenze e allora c'è un approdo molto più ricco per ciò che riguarda la cittadinanza faccio qui riferimento alla descrizione di questa nuova nuova orizzonte della cittadinanza che trago dal lavoro dello studioso che più in Italia che merita di essere ricordato parlando di queste cose che Pietro Costa con questo lavoro monumentale quattro volumi sulla storia della cittadinanza e in quasi in apertura lui descrive questo nuovo panorama quando dice che ormai la cittadinanza è cito crocevia di suggestioni variegate complesse che coinvolgono l'identità politico-giuridica del soggetto le modalità della sua partecipazione politica l'intero corredo dei suoi diritti e dei suoi doveri dunque la cittadinanza si risolve in questo corredo di diritti e di doveri non più imputati attribuiti a soggetto in ragione della sua appartenenza territoriale certo c'è un punto che chi conosce chi ha letto i lavori di Pietro Costa può ritenere nella prospettiva che sto cercando di delineare problematico nel senso che Pietro Costa tende a distinguere il discorso sulla cittadinanza inteso come un discorso sviluppato in una società per rappresentare l'individuo nei suoi rapporti con l'ordine costituito lo distingue dai diritti di cittadinanza ma più noi analizziamo questo discorso sulla cittadinanza più lo vediamo necessariamente sempre più intensamente mediato appunto dal patrimonio di diritti fondamentali che vengono attribuiti a ciascuna singola persona e dunque noi ci troviamo di fronte a due operazioni che sono effettuate attraverso questa nozione di cittadinanza svincolata dai tradizionali modi di acquisizione della cittadinanza e cioè l'appartenenza a un territorio o la discendenza diritto ius soli o ius sanguinis che sono i due modi di attribuzione della cittadinanza abbiamo visto con quanta rapidità un nuovo cittadino figlio di immigrati di prima generazione è riuscito attraverso questa cittadinanza a diventare presidente degli Stati Uniti e questo ci dovrebbe fare riflettere sulla fatica con la quale ancora in Italia si guarda all'attribuzione della cittadinanza a coloro i quali vengono da altri paesi da altre culture da altre esperienze dunque attraverso questa operazione che ovviamente non è più un'operazione soltanto italiana con un espediente a metà retorico a metà tentativo di recuperare un filo culturale importante per la nostra storia questa è un'operazione che si fa in tutto il mondo come riflessione primo la cittadinanza viene declinata con un carattere di universalità cioè esiste un patrimonio di diritti che ci appartengono indipendentemente dal luogo in cui siamo nati o dalle persone dalle quali sono state generate secondo questo ci porta a una sorta di ricomposizione di quel conflitto tra uomo e cittadino quello che ricordavo all'inizio la cittadinanza era un limite che poteva comprimere diritti che erano tali da dover accompagnare invece la persona quale che fosse il luogo in cui si trovava c'è in questo modo nuovo non nuovissimo ma diverso costruito in questi ultimi 50 anni in particolare questa ricomposizione non c'è più l'opposizione la scissione tra uomo e cittadino naturalmente perché persona l'ho accennato un momento fa persona perché la soggettività stratta da una parte si è rivelato presidio debole quando il soggetto è stato messo alle durissime prove della storia il soggetto di fronte all'essere tutto risolto nell'insieme delle norme che lo costruivano si è trovato nelle mani delle leggi speciali che ne negavano la natura di persona e cioè le leggi razziali per fare l'unico riferimento e tutto questo è il risultato di una anchessa di un'operazione molto complessa perché questo passaggio dal soggetto alla persona è il risultato di una riflessione che non soltanto misurava i limiti della soggettività astratta ma doveva ben tenere presente anche l'enorme significato perché se la soggettività astratta questo allontanarsi dalla condizione effettiva del soggetto ci può apparire oggi un limite da rimuovere non possiamo dimenticare che la soggettività astratta e la costruzione del soggetto astratto dalle sue condizioni materiali è stata la condizione dell'eguaglianza quando si costruisce il soggetto astratto si afferma l'eguaglianza contro la società gerarchizzata i ceti gli status l'essere imprigionati per ragioni di nascita per ragioni di di censo naturalmente la soggettività astratta non rimuove le condizioni materiali l'eguaglianza proclamata è l'eguaglianza limitata delle donne le cose che abbiamo detto prima e c'è questo primo dato dunque non possiamo discutendo criticamente del soggetto astratto come si dice buttare l'acqua sporca con il bambino l'importanza di considerare ciascuna persona al di là della condizione materiale per impedire che venga discriminata rimane un'acquisizione che non possiamo mettere in discussione e tuttavia una serie di dati culturali ci hanno imposto di ritornare ma corazzati e protetti dall'idea dell'eguaglianza alla possibilità di prendere in considerazione la diversità delle condizioni materiali quando noi leggiamo l'articolo 3 della Costituzione abbiamo questo gioco dialettico tra il ribadire l'eguaglianza formale nel primo comma e l'affrontare il tema della diseguaglianza materiale nel secondo comma come oggetto di rimozione come obiettivo dell'azione pubblica e dunque i due elementi non sono necessariamente tra loro contraddittorie la rilevanza delle condizioni materiali diventa una delle caratteristiche di un'organizzazione sociale all'interno della quale la Repubblica come dice il secondo comma dell'articolo 3 deve rimuovere gli ostacoli di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalità e ci sono almeno però altri due contributi culturali che ci aiutano a cogliere la pienezza e l'importanza del passaggio dal soggetto alla persona una è la cultura delle donne l'importanza della cultura delle donne non è soltanto nel ribadire l'assoluta inammissibilità della discriminazione o della non considerazione di un mondo che ha due facce e dunque del problema del genere richiama l'attenzione su un altro momento della materialità e cioè il corpo la fisicità che nella costruzione lo vedremo tra un momento dei diritti fondamentali e delle modalità di governare liberamente il sé assume un significato particolarmente rilevante e terzo elemento l'innovazione scientifica e tecnologica che amplia le frontiere e nello stesso tempo propone effettivamente e concretamente uno dei problemi chiave che in questo momento affrontiamo e cioè il passaggio da una situazione nella quale una serie di situazioni che sono poi tipicamente le situazioni di vita il nascere il vivere il morire erano governate da leggi naturali e quindi non bisognose di un intervento della politica e del diritto diventano invece per l'effetto dell'innovazione scientifica e tecnologica oggetto di scelta prima si nasceva fino a pochi anni fa in un solo modo oggi il sé il come e il quando si nasce è affidato alla libera scelta delle persone il morire non la morte la morte rimane un evento naturale il morire è un momento della vita e diventa governabile attraverso la tecnologia e dunque questo nuovo problema apre campi discussi all'uso per esempio della tecnica giuridica e al modo in cui il cittadino l'uomo e meglio la persona è in condizione di governare il sé e questo ci porta nella direzione del modo in cui la cittadinanza si insedia in modo diverso nello spazio democratico da una parte una cittadinanza che possiamo dire di tipo cosmopolitico quando nel codice del 1865 si considerava lo straniero come persona che poteva godere degli stessi diritti attribuiti al cittadino dello Stato c'era molto trasparente non solo l'idea di un internazionalismo dei giuristi quello di Pasquale Stanislao Mancini ma l'idea di ospitalità universale di matrice cantiana è assolutamente visibile lo straniero è ospite nel senso più alto e ricco e quindi gli si deve riconoscere tutto ciò che noi già abbiamo ecco questo è un punto che ritorna nel momento in cui la dilatazione degli orizzonti anzi la cancellazione dei confini lo vedremo tra un momento quando affronterò la questione molto controversa del turismo dei diritti ripropone questo problema dell'ospitalità universale e che cos'è la cittadinanza nella dimensione globale questo è uno dei temi che abbiamo di fronte a noi e un secondo problema che è un problema che ereditiamo dalla vecchia idea di cittadinanza e che troviamo di fronte a noi ancora più intenso e difficile la cittadinanza viene variamente etichettata c'è una versione forte c'è un libro di un studioso americano che si chiama Benjamin Berber che è intitolato proprio Strong Citizenship cittadinanza forte ci sono altre versioni la cittadinanza partecipata la cittadinanza spessa che vogliono tutte alludere appunto al fatto che l'attribuzione di cittadinanza nel senso largo che sto cercando di declinare deve poi trovare un corrispondente in poteri effettivamente esercitabili dalla persona non soltanto per ciò che riguarda la sua sfera privata il governo del sé che pure è fondamentale ma la sua presenza nella sfera pubblica e c'è una versione di cittadinanza sottile che inquieta che pone problemi e che diventa un modo per ridurre o svuotare dall'interno l'idea stessa di cittadinanza o comunque riportarla a una misura ridotta allora vale la pena di sottoporre un momento a verifica queste due ipotesi ora e questo richiede almeno quattro riferimenti cittadinanza e scambio politico cittadinanza e mercato cittadinanza e spazi pubblici cittadinanza e resistenza dell'antico modo di concepire la cittadinanza che sono tutti modi e operazioni variamente riduttive di quella ricchezza della cittadinanza compresa in quella sua nuova descrizione o definizione scambio nei regimi totalitari del secolo passato ma in molti paesi che pure si vengono qualificati formalmente democratici c'è uno scambio voi avrete ancora faccio dei riferimenti all'attualità che mi sembrano doverosi perché non possiamo camuffarla per esempio è tornato in questo periodo di ritornanti discussioni sul periodo fascista la sottolineatura dell'attenzione per i diritti sociali è vero in quel periodo c'è stato non soltanto in Italia uno scambio tra attribuzione di una certa quota di diritti sociali e una rinuncia e una cancellazione radicale della dimensione dei diritti politici e dei diritti di libertà c'è stato questo scambio che continua ci sono molti durante gli anni prima della caduta del muro per molti paesi che si trovavano nell'est europeo si sottolineava per esempio il grado raggiunto dall'istruzione e dalla tutela della salute così come perdonate la frettolossità e la schematicità di una serie di riferimenti così come si usa il riferimento a Cuba in queste materie c'è una il problema è quello che cosa è stato scambiato è stato scambiato certo c'erano negli anni del fascismo una serie di provvidenze per i lavoratori ma non c'era il sindacato tanto per dire non c'era la possibilità di manifestare liberamente il pensiero non c'erano elezioni libere e non c'era libera stampa lo sappiamo e dunque c'è in in questo discorso sulla cittadinanza sempre la tentazione di costruire la cittadinanza attraverso scambi interni al regime politico e sono soltanto vicende del passato ci sono varie declinazioni di questa vicenda le politiche dei due tempi cominciamo col raggiungere un risultato e poi ci saranno tempi migliori in cui arriveranno anche i riconoscimenti dei diritti io non ricordo il finale mi pare della prima parte dell'opera dai tre soldi di Brecht Mackey Messer dice viene prima la pancia e poi viene la morale ecco prima c'è una serie di necessità materiali da soddisfare e poi preoccupiamoci dei diritti l'abbiamo sentito dire molte volte e continuiamo a sentirlo dire che ci sono diritti che sono un lusso possiamo operare questa scissione possiamo costruire un sistema democratico attraverso una cittadinanza schizofrenica attraverso scambi che attribuiscono per carità in maniera importante ciò che materialmente è necessario alla vita o alla sopravvivenza delle persone e nello stesso tempo ciò viene pagato attraverso una negazione di altri diritti guardiamo ancora più da vicino lo scambio in sistemi democratici che cosa sta avvenendo in questo periodo in Inghilterra che a mio giudizio in Gran Bretagna che a mio giudizio è uno dei riferimenti significativi io parto da un dato molto banale e cioè un paio di anni fa e non era il primo caso il governo laburista era allora il governo laburista di Blair e fece appello ai cittadini perché informalmente attraverso tutti gli strumenti informatici manifestassero la loro opinione sulla opportunità di modificare alcune leggi in materia di procreazione assistita in particolare per quanto riguardava la scelta del sesso dei nascituri non per quanto riguardava la scelta del sesso dei nascituri per evitare la trasmissione di malattie genetiche perché questo era già previsto dalla legge ma proprio per avere come si diceva una più equilibrata costituzione della famiglia bene si faceva appello ai cittadini ma in altre materie in cui non c'era dubbio sul fatto dell'opinione dei cittadini dei loro orientamenti di ciò che i cittadini pensavano non si teneva assolutamente conto due fatti molto al centro della discussione inglese di questi anni l'intervento in Iraq e la trasformazione dell'Inghilterra in questo momento di uno stato di una società della sorveglianza con caratteristiche particolarmente inquietanti e denunciate in maniera molto intensa c'è uno scambio perché nella materia della quella che chiamiamo bioetica cioè della possibilità di governare liberamente la propria vita attraverso una serie di scelte riguardanti la procreazione la costruzione delle relazioni personali le unioni di fatto il morire e quindi la scelta sul come e quando morire c'è una elevata un elevato riconoscimento dei diritti e c'è una sorta di scambio per ciò che riguarda la vita biologica un ampio riconoscimento di diritti dunque un allargamento se vogliamo usare le distinzioni tradizionali della sfera privata scambiata con un impoverimento dei diritti nella sfera pubblica dove invece la restrizione di una serie di libertà storiche costruite poi è un paradosso ma non tanto costruite proprio per la prima volta in quel paese viene messa questa riduzione viene messa pesantemente in atto dunque questo problema lo dobbiamo avere molto ben presente che la cittadinanza sia pure in quella versione larga non è un dato tranquillamente acquisito ma continua a essere un luogo di negoziazione in cui poi vedremo più avanti qual è il ruolo della politica nel senso ampio non solo della politica istituzionalizzata ma della voce dei cittadini secondo terreno di controllo il mercato e la cittadinanza qui si manifesta quella che viene chiamata cittadinanza sottile cioè un altro degli scambi la cittadinanza la considerazione del cittadino come consumatore c'è una significativa per i giuristi ma penso anche per i non giuristi innovazione che mi ha molto colpito è stato riformato in questi anni il codice civile tedesco e siamo sempre nell'apertura il codice civile non è più come si è detto riferendosi ai tempi descrivendo il codice civile per definizione il codice Napoleone si è detto che era la costituzione civile dei francesi e allora il codice civile badate aveva molta più forza della stessa costituzione la costituzione era un documento politico le costituzioni erano flessibili nel senso che qualsiasi legge ordinaria le poteva modificare invece fondate come erano sul primato della proprietà i codici civili erano considerati si diceva all'epoca masse di granito nell'organizzazione sociale quindi ci colpisce ovviamente chi fa il mio mestiere in particolare il fatto che quando si è riformato il codice civile tedesco l'intitolazione della prima parte del codice l'apertura del codice che parlava di persone fisiche e quindi si riferiva alla persona nella sua interezza oggi è così stata riformulata persona fisica consumatore imprenditore la persona è risolta nel suo essere parte del sistema della produzione o sei imprenditore o sei consumatore la persona fisica è risolta nel dato di mercato questo è un elemento che noi dobbiamo molto attentamente considerare perché per esempio non è la stessa strada che è stata seguita dalle riforme del codice civile francese dove per influenza delle leggi sulla bioetica che hanno dato la rilevanza che ricordavo prima al corpo alla fisicità al nuovo modo di governare il sé invece l'articolo 16 del nuovo codice civile parla della necessità di assicurare il primato della persona e dunque esce dall'ottica puramente patrimonialistica che era stata pure la caratteristica distintiva e forte del codice Napoleone e c'è un gioco di rimandi molto significativo con la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nel cui preambolo è scritto che l'Unione pone la persona al centro della sua azione dunque questa dialettica questo gioco tra la riduzione all'economico della cittadinanza e invece la necessità di avere una cittadinanza non sottile ma piena riconoscendo alla persona la compiutezza dei suoi diritti e c'è il ritorno allora attraverso questa insidiosa riduzione all'economico della cittadinanza censitaria e guardiamo di nuovo io ricordo sempre che mi trovavo all'epoca una dozzina d'anni fa credo negli Stati Uniti e in uno di questi motel del Midwest una sera ero con mia moglie accendiamo la televisione vediamo un programma e siamo colpiti diciamo ma noi questo luogo lo conosciamo era un servizio sull'ospedale sul San Filippo Neri di Roma un ospedale che noi non consideriamo e dicevano il servizio lo riassumo così pensate voi potete entrare in questo ospedale e potete essere curati senza dover presentare una carta di credito o un contratto d'assicurazione questa era una cosa che era molto significativa cioè era la descrizione di una cittadinanza ridotta o inesistente uno dei temi cardine della campagna l'ultima campagna elettorale è stata appunto quella della riforma del sistema sanitario 40 milioni di persone 47 milioni fuori in questo momento 40 milioni che si aggiungono perché perché il costo dell'assicurazione privata è tale da non poter essere sopportato dai singoli sicché è parte del contratto di lavoro se io perdo il contratto di lavoro perdo anche la copertura assicurativa e dunque qui c'è cittadinanza censitaria il diritto alla salute che è riconosciuto sempre più come fondamentale se c'è stato un diritto in ascesa negli ultimi anni in tutto il mondo è stato il riconoscimento del diritto alla salute che ha anche determinato e continua a determinare grandi conflitti per esempio il conflitto sollevato da alcuni paesi in primo luogo il Brasile e il Sudafrica contro il brevetto delle società farmaceutiche perché questi paesi vogliono produrre a basso costo una serie per esempio i farmaci retrovirali per curare l'AIDS e lì il conflitto tra diritto alla salute e dato economico è particolarmente evidente ma nel momento in cui il diritto alla salute è condizionato immediato dalle risorse e cioè io ho tanta salute quanta ne posso comprare sul mercato ecco che rinasce nel modo più brutale la cittadinanza censitaria dico più brutale ancora di quella se io posso dire che riguardava la sfera politica perché qui ciò che è in discussione è la vita stessa delle persone tre o quattro anni fa ci fu un editoriale del New York Times che disse noi dovremmo uscire ogni giorno avendo come prima notizia oggi sono morti 30.000 bambini nell'Africa subsahariana poi non lo ha fatto ma questo è un dato cioè c'è un dato costitutivo legato al censo cioè al reddito alla possibilità di comprare diritti sul mercato e quindi di essere cittadini a pieno titolo soltanto con la mediazione delle risorse economiche e poi ci sono vicende che l'Italia ha conosciuto e continua a conoscere che in questa materia ci aiutano molto a comprendere la situazione in Italia la legge sul divorzio è del 1970 la legge sull'interruzione della gravidanza è del 1978 ma in Italia il divorzio e l'aborto erano già diritti tra virgolette di chi li poteva comprare sul mercato chi ha studiato la storia del matrimonio in Italia sa che c'è stata una lunga serie di artifici ci sono stati in un certo periodo i divorzi ungheresi i divorzi sanmarinesi i divorzi a Las Vegas questo che cosa voleva dire che chi aveva risorse economiche e culturali anche economiche in primo luogo riusciva a trovare attraverso l'intermediazione astuta degli operatori del diritto cioè di avvocati particolarmente abili in questa materia e che hanno costruito in quegli anni grandi fortune personali su tutto questo la possibilità di sciogliere legalmente il proprio matrimonio cosa che era invece negata al comune cittadino italiano negli anni prima della la prima metà degli anni 70 fino al 78 l'Italia era un paese dal quale partivano tutti i giorni charter interdiretti in Olanda o in Inghilterra carichi di donne che due giorni dopo tornavano dopo aver interrotto la gravidanza in quel paese cosa che non era possibile in Italia chi poteva farlo chi aveva le risorse economiche per poter arrivare a questo risultato quindi formalmente negato il diritto allo scioglimento del matrimonio all'interruzione della gravidanza era invece appannaggio di chi attraverso il censo cioè le risorse finanziarie accedeva a tutto questo oggi la vicenda ce l'abbiamo davanti a noi di nuovo tra il 25% degli interventi di procreazione assistita in questo momento in Italia avviene fuori d'Italia attraverso il cosiddetto turismo procreativo perché la legge 40 ha introdotto una serie di norme proibizionistiche proibizioniste che inducono ad andare fuori d'Italia chi se lo può permettere e dunque qui ci troviamo di fronte di nuovo non a quello che è stato descritto come un desiderio eccessivo che doveva essere quindi in qualche modo tenuto sotto controllo no ci sono esigenze che derivano dal fatto per esempio una sterilità di coppia che si esige o richiede per avere il risultato di avere una figlia o un figlio una procreazione con seme di donatore oppure non trasmettere una malattia genetica quando c'è una storia familiare che la mette particolarmente a rischio per la necessità di una diagnosi preimpianto chi può permettersi dunque questo tipo di intervento che è anche un intervento a tutela della salute e che tende a evitare una discriminazione per esempio tra donne sole e donne che si trovano in una relazione di coppia è il denaro ci troviamo dunque ancora una volta di fronte a un dato di cittadinanza censitaria le ultime ricerche ci dicono tra l'altro che si sta determinando una situazione molto grave poiché il proibizionismo in questa materia il legislatore della legge 40 è socialmente delegittimato se una donna su quattro che decide di ricorrere alla procreazione assistita va fuori d'Italia questo legislatore ci dovrebbe pensare sul fatto che questa sua legge non è riconosciuta come vincolante dalle cittadine italiane ma l'elemento del costo sta determinando un rischio elevato perché è stato accertato sono richieste di questi giorni che il flusso comincia ad andare verso Ucraina Slovenia Russia dove i costi sono molto bassi ma le garanzie per la salute delle donne e dei nascituri sono bassissime quindi di nuovo uno scambio perverso si può ricostruire dunque la cittadinanza attraverso la rimozione di ostacoli che fanno rinascere la cittadinanza censitaria e tuttavia questo discorso sul turismo dei diritti depurato dalla variante negativa italiana pone un problema è stato detto in maniera un po' sbrigativa che sta nascendo una cittadinanza alla carte usando la terminologia televisiva potrei dire che oggi i cittadini del mondo certamente i cittadini dell'Unione Europea dove è riconosciuto il diritto di libera circolazione fanno zapping vedono dove è più tutelato il loro diritto e lì vanno attenzione il turismo dei diritti ha una lunga storia perché l'emigrazione è sempre stato turismo dei diritti cercare opportunità di lavoro addirittura di sopravvivenza in un luogo diverso da quello in cui io vivo e dove questo mio diritto fondamentale non riesco a realizzarlo possiamo dire l'asilo politico è un'altra forma di turismo dei diritti e potremmo dire che le donne che oggi vanno in un altro paese per sfuggire al proibizionismo della legge italiana sulla procreazione assistita cercano un provvisorio asilo politico per sottrarsi a un vincolo di cui loro non riconoscono la legittimità e questo crea però un problema che è il seguente vero oggi noi ci troviamo di fronte a una costruzione di questo patrimonio dei diritti che può avvenire attraverso questo sguardo che noi rivolgiamo su un orizzonte largo che è l'orizzonte dell'Unione Europea o l'orizzonte del mondo e questo pone un problema quando si parla di armonizzazione delle legislazioni il rischio dell'armonizzazione non è che questo avvenga attraverso un minimo comune denominatore privando quindi di opportunità maggiori di diritti coloro i quali già oggi li hanno nella carta di diritti fondamentali è stata inserita una clausola che dice non si torna indietro chi ha raggiunto un certo livello di diritti non se lo può vedere limitato attraverso una lettura che si faccia della carta di diritti fondamentali e tuttavia questo è un problema che è di fronte a noi ed è in qualche misura qualcosa che noi dobbiamo guardare non con occhio puramente critico la patologia italiana non deve essere l'unico strumento analitico quando ci sono donne che abbandonano il loro paese e si trovano a vedere riconosciuto asilo politico perché se tornassero nel paese d'origine sarebbero sottoposte alle pratiche di escissione di infibulazione cioè di interventi violenti contro la loro libertà sessuale questo dato dell'asilo politico costruisce se posso usare questa espressione un po' enfatica dal basso la consapevolezza di un diritto fondamentale perché oggi c'è un problema di rapporto tra cultura e si dice ma voi occidentali volete imporre una vostra misura della libertà femminile che altri paesi non riconoscono ma quando donne di questi paesi vanno altrove e chiedono di essere riconosciute in questo loro diritto ecco che non c'è più l'imposizione di qualcuno nei confronti di qualche altro ma c'è una consapevolezza una cultura dei diritti e dunque dell'essere cittadini al di là delle frontiere del loro paese che sfugge all'idea impositiva di una cultura dei diritti eurocentrica di un'imposizione occidentalistica di un modello di diritti questo è un punto che noi dobbiamo seriamente valutare che questa costruzione planetaria di un palinsesto dei diritti lasciando anche possibilità di muoversi perché in questo modo il muoversi apre il problema se in Italia non ci fosse stato io lo posso dire ho l'età giusta per farlo il turismo terribile espressione il turismo abortivo non ci sarebbe stata una pressione effettiva che avrebbe in grado di rimuovere gli ostacoli che in quel momento esistevano in Parlamento quindi le patologie teniamole presenti guardiamo al turismo dei diritti come una nuova declinazione della dimensione globale nella quale lo spostarsi delle persone costruisce opportunità di diritti attraverso procedimenti certo i giuristi tradizionali di fronte a questo dicono qui c'è una negazione di diritti e quando dicono sì tanti diritti vengono proclamati ma poi non sono effettivi perché non c'è una corte che li faccia riconoscere a livello internazionale è vero ma per esempio se non ci fosse stata la consapevolezza che i bambini hanno diritti fondamentali che questi diritti fondamentali sono da anni consegnati a dichiarazioni internazionali e quindi hanno un loro riconoscimento una loro legittimazione una serie di movimenti informali come quelli che hanno messo sul banco degli accusati società come la Nike o l'Adidas che facevano cucire le scarpe o i palloni ai bambini e che si sono viste di fronte a opinioni pubbliche che hanno detto se continuate in queste pratiche noi boicotteremo i vostri prodotti e per la perdita di immagine e la perdita di profitti quel tipo di pratica è stata almeno in via generale abbandonata quando noi parliamo dunque oggi di effettività di diritti non dobbiamo soltanto riferirci lo dico io che faccio il giurista di mestiere soltanto alle procedure giuridiche tradizionali formalizzate c'è oggi un mondo più complesso all'interno del quale giocano procedure e soggetti che non sono soltanto i tribunali e le corti tradizionali per far sì che l'effettività dei diritti e quindi questa costruzione faticosa di cittadinanza non dall'alto divenga possibile ma questo richiede spazi pubblici aperti uno dei tanti modi per definire insieme cittadinanza e democrazia è quello di dire che la cittadinanza declinata anche come libera costruzione di personalità attraverso un'attribuzione di patrimonio di diritti si realizza attraverso la massima esposizione possibile alla maggior quantità possibile di opinioni diverse questo è uno dei modi in cui si guarda alla cittadinanza e questo ci mette di fronte ad alcuni problemi in Italia e fuori in Italia con una particolare evidenza anche quello della cronaca i ghetti scolastici l'idea che ciascuno possa costruire la propria scuola per ribadire la propria identità regionale la propria identità religiosa non faccio solo riferimento ma qualche tempo fa c'è stata una richiesta di introdurre come insegnamento quello della religione islamica che ha trovato un singolare in quel momento una singolare accoglienza da parte di gerarchie cattoliche esponenti significativi della gerarchia cattolica ma in questo modo la costruzione della scuola come ghetti identitari è evidentemente molto grande in un momento in cui abbiamo bisogno di costruire dall'inizio il cittadino capace di riconoscere l'altro e non il cittadino che misura subito la distanza tra sé e gli altri tra quelli che un certo momento vanno nella classe in cui si insegna la religione islamica ci sono quelli che vanno nella classe dove c'è la religione cattolica e gli altri pochi o molti che siano anche se statisticamente in crescita che non fanno nell'una nell'altra cosa e questo è un modo per costruire i cittadini questo è un problema e c'è dunque un nuovo modo di leggere la scuola pubblica non è una parolaccia la scuola laica la scuola laica oggi non è la scuola anticlericale non è la scuola che si allontana e allontana la religione è la scuola della conoscenza reciproca di cui abbiamo particolarmente bisogno e la scuola pubblica è obbligo della repubblica io non voglio tornare ma in questo momento non è una caduta nella polemica di questo momento ma è un problema metto da parte quello che pure dovrebbe essere un criterio guida e cioè che la scuola privata si istituisce senza oneri per lo Stato ma in questo momento c'è dichiarato dall'attuale governo un problema di distribuzione di risorse scarse qual è il criterio con il quale si distribuiscono le risorse scarse nell'ambito della istruzione e l'istruzione torno al 1861 non votavano gli analfabeti quindi l'istruzione è un elemento costitutivo della cittadinanza come fa fronte lo Stato all'obbligo costituzionale di una scuola pubblica che risponda a queste esigenze i momenti di penuria le risorse vanno in primo luogo destinate alla scuola pubblica quando l'economista mi chiede qual è il criterio oggi di ripartizione di risorse scarse io lo trovo lì ed è uno dei tanti esempi ma naturalmente la possibilità di stare in uno spazio pubblico in cui non vengo solo rafforzato nella mia identità ma esposto come devo essere alla ricchezza del mondo e delle informazioni porta immediatamente con sé una serie di problemi i problemi dell'antitrust cioè che non ci siano monopoli informativi che non ci siano censure problema di beni comuni l'accesso alla conoscenza su internet che è il problema che tutte le persone più giovani io sono perfettamente in grado tecnicamente di scaricare illegalmente da internet non lo faccio perché ho una remora ma io vedo ragazzini dell'età di mia nipote che non hanno assolutamente questo problema e che ritengono che la musica su internet sia loro patrimonio e questo implica una diversa l'idea di accesso alla conoscenza e anche un obbligo per i giuristi di rileggere l'articolo 42 quello classico sulla tutela della proprietà che dice che la legge deve rendere accessibile a tutti la proprietà abbiamo un nuovo problema di beni comuni di cui abbiamo avuto modo di discutere e io non dimentico un'audizione del professor Settis a una commissione che ho presieduto ma che penso i suoi risultati finiranno dato il clima in un archivio del ministero ma abbiamo cercato di inventare su un terreno più limitato questo tema di avviare questo tema del bene comune perché se la conoscenza l'istruzione è un connotato della cittadinanza di oggi se questa cittadinanza non è più chiusa in confini che non ci sono perché quando si va su internet il confine non esiste qual è il destino del bene comune conoscenza come lo gestisce questo cittadino planetario e di nuovo il ritorno della vecchia cittadinanza con gli strumenti della esclusione di nuovo concedetemi altri dieci minuti sono consapevole che sto come si dice abusando del vostro tempo ma ci sono degli esempi un anno fa il comune di Milano approvò una delibera con la quale escludeva dalla iscrizione alla scuola materna i figli di immigrati illegali voi vi rendete conto che la negazione esplicita in questa delibera del diritto all'istruzione come patrimonio che ciascuno di noi si porta dietro quale che sia il luogo in cui si trova era patente per fortuna ci fu un intervento ministeriale in quel momento e la delibera dovette essere revocata ma in questo momento davanti al Parlamento quello è uno dei diritti fondamentali costitutivi della cittadinanza contemporanea diritto alla salute è aperta la questione intorno a una norma che subordinerebbe la cura dell'immigrato illegale alla immediata denuncia da parte del medico alle autorità di polizia dell'avere avuto a che fare con un cittadino immigrato illegalmente qual è la conseguenza di tutto questo dal punto di vista di principio la negazione del diritto alla salute come diritto fondamentale della persona come sta scritto nell'articolo 32 della Costituzione ma chi fa queste proposte è evidentemente poco consapevole degli effetti primo l'immigrato non va a farsi curare e allora delle due l'una o diventa un fattore di rischio per la società quando si affrontò in Parlamento la questione dell'AIDS e della sindrome HIV si disse dobbiamo assicurare il massimo anonimato perché altrimenti i portatori di queste malattie rimangono nella clandestinità con un rischio per essi stessi non si fanno curare ma un rischio per gli altri perché possono ottenere comportamenti che determinano contagio la stessa questione si ha per gli immigrati con un elemento in più chiunque ha visto un qualsiasi film del filone gangsteristico americano sa che quando il gangster viene ferito viene portato dal medico compiacente che fa parte della banda e che lo cura cioè affidiamo alla criminalità la gestione anche di questo profilo sociale che è la cura degli immigrati che non hanno tutti i titoli e dunque ecco gli effetti negativi ma in questo momento oggi se apriamo i giornali troviamo il problema è la vecchia idea il registro di coloro i quali sono senza fissa dimora io sono rimasto sbalordito perché mi è tornato alla memoria lo potete trovare facilmente in un piccolo libro ho citato la grande opera di Pietro Costa non me la portavo dietro ma per comodità mi ero portato dietro un piccolo libro riassuntivo che lui ha scritto sulla sulla cittadinanza bene in questo libro si ricorda che nel regime nazista ci fu un problema che era quello razziale ma c'era anche quello di avere una ripulitura di coloro i quali in qualche misura erano considerati socialmente devianti e quindi tali da inclinare l'omogeneità del gruppo sociale ed erano due categorie i mendicanti e le prostitute guardatevi intorno e misurate una serie di passi che in questo momento si stanno facendo in più questo problema delle persone senza fissa dimora è un problema molto significativo se poi voi aprite un libro molto bello che si intitola Repubblica delle scelte di uno storico americano che si chiama Lawrence Friedman si apre con la descrizione di una grande gelo invernale a New York e immediatamente il comune vuole intervenire per mettere al riparo gli homeless quelli senza fissa dimora che dormono per le strade sulle grate della metropolitana per portarli in rifugi caldi sicuri uno di questi risponde rifiutando we got rights abbiamo conquistato dei diritti e in nome della sua libertà rifiuta questo intervento episodio che si riproduce anni dopo nella stessa situazione a Parigi l'homeless il senza fissa dimora è qualcosa che turba è un deviante che dà fastidio è però qualcuno che ha fatto anche una scelta a Roma c'era stata una decisione intelligente non hanno fissa dimora non hanno quindi un riferimento formale era stata inventata una strada che non esiste nella toponomastica cittadina via Cecilia Modesta Cecilia Modesta era una donna che aveva dedicato la sua vita agli emarginati questo che cosa voleva dire se un senza fissa dimora a un certo punto voleva avere un riferimento andava e diceva io sono residente in via Cecilia Modesta e in questo modo guadagnava ciò di cui socialmente riteneva di avere bisogno senza perdere la sua libertà io ho detto che questa era una istituzionalizzazione a bassa intensità dobbiamo trovare dei modi per costruire cittadinanza e libertà senza interferire violentemente sulla scelta delle persone due considerazioni finali ce ne sarebbero tante altre ma forse se c'è qualche domanda posso tornarci il corpo il mondo le tecnologie non soltanto il corpo è visto come qualcosa su quale si può intervenire con scelte sempre più intense ma c'è accanto al corpo fisico ciò che viene chiamato il corpo elettronico c'è un problema di cittadinanza digitale cioè i poteri di cui io dispongo nel momento in cui mi muovo su internet e lì il discorso della cittadinanza attiva partecipativa delle opportunità offerte è molto importante e io vi faccio immediatamente parto da un caso italiano e arrivo a un caso abbastanza planetario il caso italiano è questo una serie di comuni mettono a disposizione dei cittadini la possibilità di accedere direttamente attraverso il loro computer procedimenti del comune per verificare che cosa sta facendo il comune non solo nei loro diretti confronti a che punto è la mia richiesta di una concessione di lizi ma capire a che punto è una certa delibera chi sono coloro i quali l'hanno chiesta chi è implicata in un'operazione immobiliare bene tutto questo però esige una garanzia da parte del comune e cioè che coloro i quali accedono non saranno poi schedati come seccatori come cittadini non attivi ma come pericolosi soggetti che turbano l'ordinario svolgimento di una vita che vuole rimanere una vita amministrativa che vuole essere opaca e quindi detenere informazioni che voi sapete essere potere quindi c'è questo passaggio significativo cioè devono essere costruite le condizioni non basta la tecnologia la tecnologia diceva uno studioso tutt'altro un americano che si chiama Theodore Levy tutt'altro che sovversivo la tecnologia apre le porte il capitale le chiude la tecnologia apre le porte poi vedremo chi le chiude chi o chi le utilizza ma in questo momento c'è una polemica in giro per il mondo che voi avrete letto che in relazione alla elezione di Obama c'era un gradimento fuori dagli Stati Uniti che andava dal 70% al 92% in Italia qualcuno ha letto tutto questo come una voglia di votare nelle elezioni degli Stati Uniti e l'ha letto in una chiave negativa e cioè c'è una propensione a essere sudditi dell'impero americano io lo leggerei in un altro modo io lo leggerei nel senso di essere consapevoli del fatto che ci sono decisioni prese negli Stati Uniti che ormai incidono sulla vita dei cittadini di tutto il mondo e quindi questi cittadini si pongono il problema di una pienezza di cittadinanza che anche sul terreno politico non può essere scritta iscritta soltanto nella dimensione nazionale non so se ci sarà un imperatore americano che avrà la lungimiranza di quell'imperatore romano che nel 212 dopo Cristo estese a tutti coloro i quali vivevano nei territori dell'impero la cittadinanza romana ma questa è la dimensione che noi dobbiamo considerare ma c'è un una dimensione che abbiamo visto in questo periodo l'espansione attraverso tutta una serie di strumenti usati in questa campagna elettorale ma devo mettere di nuovo una nota critica non voglio dire pessimistica per chiudere l'uso di queste tecnologie per accrescere il controllo mi riferivo prima alla Gran Bretagna dove l'insieme di queste tecnologie è usata con particolare intensità per controllare i cittadini io ho un amico che è l'equivalente del garante italiano che ho conosciuto ed era una delle persone più moderate che io avessi incontrato quando presidevo i garanti europei era quello che mi poneva le maggiori difficoltà qualsiasi delibera un po' incisiva lui era subito è pregiudizialmente contrario adesso è posso dirlo scatenato leggo continuamente le sue dichiarazioni che dicono noi abbiamo superato la soglia di sorveglianza compatibile con una società democratica e il riferimento non è un riferimento come dire tutto politico perché nell'articolo 8 della vecchia convenzione europea dei diritti dell'uomo del 50 si dice che possono essere limitati alcuni diritti per finalità di tutela della sicurezza a condizione che sia compatibile con le caratteristiche di una società democratica quindi quale che sia l'interesse da tutelare deve prima superare una misura restrittiva deve superare il test di democraticità se non lo supera e noi dobbiamo correre i rischi che sono tipici di un regime democratico ma questo incide non solo sulla dimensione generale ricostruttiva incide sulle persone incide sulle persone perché vi faccio due esempi e chiudo il PRI sono tutti gli strumenti di controllo a distanza il braccialetto elettronico il computer indossabile il microchip sottopelle il controllo a distanza attraverso la tecnologia delle radiofrequenze e questo che cosa vuol dire che gli spostamenti di ciascuno di noi possono essere controllati c'è un rapporto appena preparato e che mi auguro le istituzioni europee non seguiranno che dice queste cose dice in questo momento il rapporto che noi intratteniamo con una serie di oggetti a cominciare dal modo in cui noi usiamo il telefono cellulare i nostri spostamenti le transazioni attraverso le carte di credito internet i bancomat forniscono una quantità di informazioni straordinariamente efficace per la lotta a ogni forma di devianza sì che le dobbiamo integralmente conservare giustamente e mi scuso di essere sommario questo tipo di impostazione è stata fortemente criticata dicendo ciò a cui noi dobbiamo opporci è quello che è stato opportunamente definito un digital tsunami questa ondata di raccolta di informazioni che può travolgere tutti i tipi di libertà già oggi già oggi voi sapete che le vostre conversazioni telefoniche non che siano intercettate perché i contenuti non sono conservati poi c'è anche qualche dubbio ma ciò che è conservato e per il momento in Italia si sta scendendo ma considerate che sono almeno per due anni conservati chiamante chiamato durata della conversazione luogo della conversazione accesso a siti internet dati riguardanti le email attraverso questi dati che non riguardano il contenuto delle comunicazioni è possibile ricostruire l'intera rete di relazioni personali di opinioni se io chiamo la parrocchia o la moschea è evidente che c'è qualche dato che mi riguarda indipendentemente dal contenuto della conversazione se io ho chiamato un cardiologo o uno specialista dell'AIDS è chiaro che lì c'è un dato sulla salute mia o dei miei familiari questa ecco il digital tsunami che può assolutamente spazzare via nostre libertà fondamentali e la costruzione della persona si parla molto della videosorveglianza è vero a Londra nel centro di Londra una persona è registrata intorno a 4.000 volte se circola nel centro di Londra Roma Milano siamo sopra le 500 registrazioni se una persona cammina per questo lascio da parte i problemi su libertà tradizionali come la libertà di circolazione ma c'è un punto molte virgolette positivo e cioè che il mio corpo non viene toccato se invece io sono un dipendente di determinate società e in Inghilterra ormai ce ne sono più di 50.000 che è obbligato a lavorare con quello che pudicamente viene chiamato un computer indossabile che cosa accade? Accade che il datore di lavoro può in ogni momento come si dice monitorare il suo lavoro cioè sapere qual è il ritmo del suo lavoro dove si trova l'intensità se si interrompe in un momento inviargli istruzioni continue sulle attività da svolgere una università inglese a cui si era rivolto un sindacato all'università di Durham ha presentato un rapporto e ha configurato un'organizzazione sociale due espressioni prison surveillance una sorveglianza di tipo carcerario battery farms battery farms sono i polli da batteria il lavoratore è ormai ridotto e questo implica un problema molto delicato la cittadinanza oggi è declinata in primo luogo come dignità della persona attraverso l'insieme dei diritti che gli sono attribuiti non a caso la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si apre con il riferimento alla dignità e perché ho detto questo? Perché attraverso tutti quei dispositivi quella persona video sorvegliata che non è toccata nel suo corpo viene invece costruita per essere continuamente un soggetto che riceve o emette informazioni chiamata una networked person una persona continuamente in rete o attraverso questo questa appendice del nostro corpo che è il cellulare oppure attraverso manipolazioni dirette del corpo ora lascio da parte altre cose e faccio due sole osservazioni ho finito sul serio l'idea del panopticon di Bentham qualcuno sempre sorvegliato da qualcuno che non riesce a vedere la sindrome del pesce rosso la persona sempre osservata e che quindi modifica i suoi comportamenti l'uomo di vetro che è una metafora nazista che viene continuamente adoperata e si dice ma se tu non hai nulla da nascondere che timore hai di queste forme di controllo attenzione questa è l'insidia maggiore perché se a un certo punto io voglio nascondere o meglio soltanto tener riservato qualcosa io divento un cittadino sospetto un nemico del popolo e per il fatto di voler vedere rispettata una mia sfera di intimità di riservatezza vengo entro nell'area dei sospetti e perdo un requisito fondamentale della mia cittadinanza ecco l'altro passaggio che noi dobbiamo tenere presente insieme alla considerazione finale e cioè in questo momento c'è effettivamente una schizofrenia una schizofrenia politica culturale istituzionale siamo sempre più consapevoli che non possiamo chiudere in nessun tipo di ghetto la cittadinanza la cittadinanza è questo pienezza dei diritti fondamentali la possibilità di goderne di utilizzarle ma nello stesso tempo tutto questo è fortemente insidiato non solo da politiche deliberate ma da una delega crescente alla tecnologia per affrontare una serie di problemi sociali io di fronte a me un problema delego alla tecnologia ho un problema invece di io ricordo benissimo è un esempio che ho fatto tante volte che voglio fare che è questo io ho attraversato una volta ero a Washington e sono andato a casa di amici e ho detto come sei venuto sono arrivato a piedi ma dove sei arrivato ma come hai attraversato quell'area ma tu ti sei messa a un rischio terribile ho detto ma quella era un'area assolutamente videosorvegliata e mi ho detto attenzione la videosorveglianza era la prova che quella fosse un'area a rischio quindi in quel caso la tecnologia è semplicemente un modo per eludere il problema del governo sociale di quell'area noi stiamo vivendo un impoverimento della politica che delega alla tecnologia facendo diventare problemi sociali pur i problemi di ordine pubblico e non risolve neanche i problemi di ordine pubblico ma nello stesso tempo rischia di impoverire la cittadinanza di farla divenire non forte strong spessa ma ridotta a che cosa a una cittadinanza confinata sempre in più in spazi privati diffidente nei confronti degli altri prigioniera delle proprie paure e quindi ostile e non strumento di costruzione di una società democratica grazie grazie a tutti è chiaro che continueremo ad applaudire per molto tempo facciamo invece qualche domanda prego la prima domanda grazie premetto che non ho assolutamente nessuna competenza specifica in materie giuridiche comunque il primo pensiero che mi viene quando ascolto questo discorso così ricco articolato e pieno di aspetti che riguardano da vicino la nostra democrazia è l'aspetto che in Italia e in Europa per fortuna è assolutamente bandito ma che è molto presente in altri paesi del mondo cioè il problema della pena di morte che credo che sia un ostacolo fondamentale al discorso appunto dei diritti della cittadinanza della dignità e della libertà ora l'Italia l'Europa appunto si trova sempre più ad avere a che fare con questi paesi d'estremo oriente dove ci sono migliaia di esecuzioni all'anno ma anche gli Stati Uniti che sono stati più volte elogiati proprio in questo periodo per la grande prova di democrazia che hanno dato nella scelta elettorale ecco sono tutti paesi dove la pena di morte purtroppo è presente non in tutti gli stati degli Stati Uniti insomma ma in alcuni e in tanti altri paesi del mondo e quindi ecco questo è un aspetto fondamentale da cui bisognerebbe partire nella lotta oltre che nella riflessione per la conquista dei diritti planetari salve io volevo soffermarmi soprattutto sul tema di quello che lei ha definito il turismo dei diritti e se interpreto bene le sue parole lei ha sottolineato tra le altre cose anche un effetto diciamo benefico di questo turismo dei diritti che consisterebbe appunto nel contrastare alcuni effetti perversi della globalizzazione soprattutto nei paesi emergenti con la riduzione dei diritti ad esempio nel mercato del lavoro e io mi chiedevo se non sia possibile però dare anche un'altra lettura parallela di questo turismo dei diritti forse secondo quella che lei chiamava concezione debole economica della cittadinanza e cioè del turismo dei diritti come trasposizione del modello economico della globalizzazione in questo campo cioè mi spiego io come cittadino voglio ottenere un certo servizio come ad esempio certi servizi bioetici la fecondazione assistita e cerco nel mercato globale il paese che me lo possa garantire e che me lo possa garantire alle migliori condizioni e se questo modo di vedere la cosa può avere un fondo di verità non è molto pericoloso accettare questo principio ci trovo un esempio il caso del del trapianto degli organi in molti paesi appunto è possibile andare e a pagamento ottenere il trapianto degli organi da donatori che appunto vendono i propri organi e in effetti a me sembra di avere letto un articolo di un economista statunitense che proponeva proprio usando questo argomento del turismo che avviene come argomento per consentire il pagamento dei donatori di organi anche in paesi come l'America e quindi questo argomento del turismo dei diritti non può diventare un cuneo per consentire certe cose che noi non siamo disposti ad ammettere salve se i diritti sono qualcosa di sottoposto diciamo all'elaborazione storica si possono aumentare quindi si possono scoprire nuovi diritti e aggiungere però teoricamente si possono anche diminuire si possono sottrarre se pensiamo che questa è una cosa negativa l'unico rimedio è diciamo ancorare i diritti a qualcosa di naturale che esista un diritto naturale o sacralizzarli o ci sono altre forme se io voglio chiedere un parere su un conflitto che mi lascia molto in difficoltà fra il timore che una persona non abbia la forza di chiedere un diritto e l'imposizione di un diritto quindi penso mi viene in mente appunto l'imposizione sul divieto di mettere il velo alle donne islamiche insomma quindi questo fatto il timore di pensare che una persona non abbia la forza per chiedere il diritto è comunque l'imposizione mi sembra che la soluzione non sia a mio modo di vedere discutibile però lo vedo come un problema il fatto che una persona possa non avere la forza per chiedere per chiedere un diritto no non per ragioni di tempo ma per cominciare a rispondere ecco mi posso fermare un momento rispondere perché così poi ricorda la domanda allora la questione della pena di morte è evidentemente essenziale io ho trovato positivo importante anche il ruolo giocato dal governo italiano e da alcuni gruppi o partiti facciamo senza ipocrisia e riferimento ai radicali che hanno avuto grandi meriti in questa materia e la risoluzione delle Nazioni Unite non vincolante e che però lei ha ragione ha bisogno poi di essere seguita politicamente questo è il vero punto io non dico che tutte le volte che c'è una missione politico commerciale in uno dei paesi che continua a praticare la pena di morte si debba fare una dichiarazione pubblica o cominciare a subordinare una serie di accordi almeno al rispetto della moratoria perché poi questo era l'oggetto della delibera delle Nazioni Unite ma certamente io sono convinto che quel risultato non può essere come un acquietarsi credo per esempio che il mondo scusate l'enfasi a questo nuovo presidente degli Stati Uniti non voglio dire che debba presentare il conto perché di conti gliene saranno presentati molti tanti e mi rendo conto scusate il gioco di parole di quante difficoltà avrà ma certo ci sono due ci sono tre aree del mondo gli Stati Uniti dove c'è una virgolette cultura radicata che ancora negli ultimi tempi sapete governatori che hanno negato la sospensione governatori che l'hanno data ci può essere un passaggio fondamentale in questa materia a breve scadenza Obama uno dei grandi conflitti politici sottostanti che noi non abbiamo percepito è quello intorno alla Corte Suprema l'elezione di Obama garantisce che i prossimi tre giudici non saranno della pasta degli ultimi che sono stati nominati perché da lì passerà probabilmente per quanto riguarda gli Stati Uniti una serie di questioni e quindi quella della pena di morte sarà particolarmente importante poi c'è la Cina e poi ci sono i paesi dell'area del medio orientale e qui c'è azione politica da fare azione politica sia proseguendo la discussione nelle Nazioni Unite sia come dire ci può essere un gruppo di nazioni perché questo che decide di fare un'opera di sponsorizzazione continua del tema della pena di morte io credo che queste sono le linee che noi noi sulle quali bisogna orientarsi la questione del turismo dei diritti io ho voluto come dire prospettare le due questioni poi certamente c'è un turismo io conosco un caso che in questo momento è davanti all'attenzione del mondo e cioè l'uso dello spostamento di sperimentazioni cliniche in aree nelle quali le garanzie delle persone sono minime questo è un fatto tra virgolette di massa e che porta con sé culture che si radicano nel mondo imprenditoriale e a un certo momento si è cercato di far sì di condizionare una serie di finanziamenti dell'Unione Europea al rispetto di alcuni protocolli che erano che non si facesse sperimentazione clinica in forme diverse da quelle del paese di partenza qui cioè io non posso sfuggire alla regola europea andando in un altro paese perdo i benefici e in più che se si va in paesi che sono si dice pudicamente in molti casi in via di sviluppo in particolare situazioni di difficoltà ci deve essere poi un trasferimento dei benefici ulteriori perché se io faccio una sperimentazione clinica legittima in Italia in Francia in Germania devo rispettare soltanto i diritti individuali delle persone che accettano la sperimentazione clinica lì c'è un problema sociale se io vado a fare in un paese africano una sperimentazione clinica non con un intento questa volta di sfuggire alle regole minime ma perché per esempio lì l'insediamento di quella malattia ha caratteristiche tali per cui io la faccio lì la sperimentazione non la posso fare da altre parti non solo devo rispettare il protocollo individuale ma devo poi garantire due cose per esempio che le persone che si sono sottoposte alla sperimentazione clinica qualora il loro stato patologico continui si vedano assicurato gratuitamente il beneficio derivante dal medicamento che è stato realizzato e in più oltre al vantaggio individuale il fatto che in quel paese il medicamento arriva non dico a prezzi di costo ma quasi quindi è vero c'è un problema e c'è una strategia da seguire poi certo io credo che noi dobbiamo rifugire in queste materie all'argomentazione puramente economicistica si dice che c'è una penuria di organi e che la via migliore è quella di arrivare alla locazione migliore delle risorse rendendo possibile il libero commercio degli organi medesimi con la critica al paternalismo del divieto legislativo per esempio si dice ma se nel caso degli organi doppi come il RENE questa vendita si può fare senza che ed è così senza che ci siano conseguenze negative almeno entro certi limiti per la salute della persona tant'è che ha messa anche in Italia la donazione tra viventi del RENE con alcune vere o finte limitazioni comunque se è ammessa la donazione è ovvio che questo significa che chi è donatore non ne ha poi un effetto sulla propria salute allora perché non dobbiamo ammettere il mercato degli organi e qui dobbiamo necessariamente uscire dalla logica puramente economicistica perché ciò che è stato rappresentato un po' brutalmente dicendo ma noi avremmo una nuova stratificazione sociale cioè ci sarebbero produttori e consumatori di organi e ci sarebbe una sorta di nuovo cannibalismo i ricchi mangiano il corpo dei poveri queste possono sembrare impostazioni terroristiche dietro le quali però c'è la dignità della persona io non posso dire come non posso dire io risolvo tutti i problemi in una certa area mettendo 10.000 telecamere io non posso dire che risolvo il problema delle difficoltà economiche di alcuni gruppi sociali o di alcune zone del mondo dicendo mettetevi sul mercato e vendete i vostri organi ecco qual è il passaggio io quindi sono assolutamente d'accordo con lei poi ci sono modi molto più sottili perché c'è un altro turismo dei diritti largamente utilizzato dai soggetti forti trasnazionali ma già all'interno degli stati la tecnica del cosiddetto foro competente se tu compri un bene e lo compri a Pisa e si dice foro competente sarà il foro di Udine se tu devi litigare con la società che ti ha fornito quel determinato bene o servizio e vabbè tu dovrai andare a far non lo puoi fare a casa tua ma devi andare a Udine e naturalmente questo è un modo per scoraggiare la tutela dei diritti non la litigiosità immaginate se poi adesso io estremizzo se Microsoft dice che il foro competente è quello di Seattle nessuno poi si metterà a far causa a Microsoft le tecniche del turismo dei diritti ci sono hanno dietro grandi tradizioni la libertà di stabilimento anche una delle libertà previste nell'Unione Europea è stata anche libertà di stabilire l'impresa laddove le tutele dei lavoratori sono più basse e quindi questa io ho mostrato anche una faccia che oggi comincia a essere non dico benefica ma certamente tale da dover essere presa in considerazione e soprattutto dire se ci sono dislivelli non scendiamo per evitare che questi dislivelli ci siano a un livello più basso della tutela generalizzata meglio avere delle punte dove chi può va a far tutelare i propri diritti e non azzerare per tutti queste possibilità certo che si possono diminuire il ricorso all'argomento naturalistico è molto scivoloso è rischioso perché chi parla poi in nome della natura c'è sempre dietro un autoritarismo oppure un fondamentalismo io faccio un riferimento che mi richiede due minuti ma così proviamo a intenderci un po' meglio uno degli articoli chiave della nostra costituzione che abbiamo riscoperto recentemente sotto la spinta dei dati di realtà è l'articolo 32 della salute l'abbiamo scoperto per esempio per il caso Welby per dire ora quest'articolo dice varie cose dice che la salute è un diritto fondamentale che a nessuno può essere imposto un trattamento sanitario se non per legge ma la cosa chiave a mio giudizio posso sbagliare ma me ne vado convincendo sempre di più e lo dico qui a Pisa perché è presente per esempio Umberto Breccia che è uno di quelli che per primi gli studi sul diritto alla salute hanno avuto un'apertura pionieristica proprio qui i vecchi lavori che sono stati fatti a Pisa rimangono ancora un punto di riferimento e tuttavia oggi la valorizzazione massima sono le due ultime righe di quell'articolo 32 laddove si dice che la legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana cioè neanche il legislatore può dire tu devi sottopostarti a questo trattamento terapeutico e se questo viola il rispetto della persona umana aggiungo che c'è una famosa sentenza della Corte Costituzionale che dice che ci sono alcuni principi fondativi che non possono essere modificati attraverso anche il procedimento di revisione costituzionale addirittura si dice con formula enfatica neppure dall'unanimità dei consociati neppure la grandissima maggioranza perché perché si dice che c'è un punto che è indecidibile quando c'è l'implicata la persona umana nella sua dignità e integrità è indecidibile dallo stesso legislatore poi noi ci troviamo di fronte al fatto che poi il legislatore può farlo ma a questo punto che accade questo dobbiamo dire ma non c'è natura umana che ci tenga al riparo da questo se il legislatore lo vuole fare che c'è un cambio di regime non è che non si possa fare ciò che sta scritto nella Costituzione in quella sentenza della Corte Costituzionale qualora si mettono le mani sulla dignità e l'integrità della persona si esce dal regime democratico si abbandonano alcuni punti di riferimento si rinnegano quelli che sono stati i risultati di una lunga e complessa opera non c'è legge che ci possa mettere al riparo dalla prepotenza dalla cattiva politica e quindi da questo punto di vista non faccio una dichiarazione di resa faccio una riflessione che in un regime democratico ci deve obbligare a essere ricosissimi nel dire c'è un indecidibile anche dal legislatore perché ciò che è implicato è la dignità della persona e se questo accade usciamo dalle logiche di un regime democratico questo è il modo in cui noi possiamo affrontare questi problemi la natura non ci salva che anche se noi affermiamo che è un diritto è insito nella natura umana se c'è il cattivo legislatore poi dice che questo non fa parte della natura umana chi stabilisce che la natura è questa e non è un'altra l'imposizione tutelare se stessi dalla debolezza qui si dice il paternalismo del legislatore il velo qui c'è una questione e c'è una questione molto delicata che io ho affrontato in modo molto approssimativo e molto per la tangente quando ho fatto riferimento alla storia dell'infibulazione io ricordo benissimo che una volta quando ero parlamentare grazie all'intelligenza di una collega che si chiama Laura Balbo che è stata anche una sociologa che è stata anche ministra delle pari opportunità usammo i denari dei portaborse ma quella era una stagione ancora in cui c'era questa cultura per fare una ricerca a Roma su quelle che erano in questi gruppi di immigrate le reazioni su questa questione abbiamo avuto dei risultati che non erano sorprendenti ma che confermavano non degli stereotipi ma alcune tendenze e cioè uno dei risultati è stato questo alcune donne hanno detto se fossi rimasta nel mio paese probabilmente avrei evitato questa tragedia a mia figlia perché l'avevo vissuta su di me ma qui io non mi sento di essere così sicura in questo mio convincimento perché? perché viviamo fuori dal nostro paese in una comunità attenzione che al proprio interno per mantenere la propria identità ha bisogno di perpetuare anche questo tipo di riti di abitudini perché altrimenti nessuno della mia comunità sposerà questa ragazza che non si è sottoposta a questo tipo di rito di passaggio allora voi vedete che c'è un problema molto delicato e tuttavia io credo in questo che ci sono dei diritti della persona che noi dobbiamo essere capaci di salvaguardare anche con una qualche forzatura occidentalistica sì ci sono diritti fondamentali della persona che poi implicano il il fatto che ne va di mezzo la libertà fondativa di una persona perché devo prendere una bambina e sottoporla a tutto questo allora ci sono passaggi nei quali il multiculturalismo pone dei problemi la questione del velo può essere molto più anche qui dobbiamo vedere contesto e contesto io mi sono trovato quando la Francia ha costituito una commissione che ha prodotto un rapporto che poi ha determinato la legge che ha vietato l'uso pubblico dei simboli religiosi tra cui il fulare islamico io la commissione è venuta in Italia sono stato sentito uno di questi componenti era l'enture un sociologo che voi conoscete che mi ha abbiamo avuto una lunga discussione e lui mi ha detto io sono mi sono convertito nel senso che ero prima assolutamente contrario e poi riflettendo sulla storia della laicità francese vista non come laicità oppositiva ma come costitutiva di uno spazio di libertà democratica sono arrivata alla conclusione che in Francia non voglio dire in altri paesi questa legge proibitiva sia importante perché aiuta un processo di emancipazione delle ragazze da una chiusura all'interno della quale l'organizzazione familiare tribale il gruppo vuole invece chiuderla in Francia questa legge ha funzionato perché aveva dietro questo tipo di cultura non tutto è andato così perché in qualche zona di frontiera per esempio ai confini del Belgio ci sono state delle famiglie che hanno detto no tu la mattina invece di prendere l'autobus per andare alla scuola francese prendi e fai lo stesso percorso vai in Belgio dove nessuno ti vieta di andare col fulare islamico quindi questi sono processi complicati però io credo che su alcuni punti noi dobbiamo avere non un pregiudizio occidentalistico però fare una riflessione seria sul fatto che alcuni passaggi culturali sono molto importanti e che non dobbiamo rifiutare alcuni risultati con un multiculturalismo molto rozzo se noi leggiamo per esempio quello che è il tentativo che fa da molto tempo anche con forzature Amartya Sen per dire attenzione tutta una serie di prerogative che voi ritenete proprio dell'Occidente per quanto riguarda l'elaborazione di diritti fondamentali hanno radici analoghe anche se sono state sviluppate in maniera diversa anche nei nostri territori quindi non partiamo dalla premessa di una irriducibilità reciproca cerchiamo di ritrovare punti di riferimento comune che ci aiutano ecco io sono più favorevole a questo secondo modo di intendere anche basta quanto volete Vincenzo Ambriola informatico volevo fare una domanda sulla parte dell'identità digitale ma credo che i temi sollevati stanno andando in un'altra direzione in particolare le ultime cose che hai detto riguardo all'incrocio delle comunità mi hanno fatto pensare che almeno noi spesso io lo faccio spesso pensiamo a dei punti caldi del pianeta perché sono punti interessanti dove accadono delle cose che qui non accadono per esempio Gerusalemme è un punto caldo un altro punto caldo è Hong Kong un altro punto caldo è Kabul ci sono dei punti in cui le comunità Sarajevo è un altro punto caldo in cui le comunità si incontrano e le persone che vivono in queste comunità affrontano delle situazioni veramente diverse dalle nostre molto difficili ora non ti chiedo di dirci cosa succede qual è il punto di vista dei diritti della cittadinanza in Israele o in uno di questi punti ma di darci almeno un'impressione di come affrontano questi problemi qual è il filo conduttore di una discussione sulla cittadinanza in un punto caldo perché in Europa è vero siamo tante nazioni però ci accomunano tantissime cose l'impero romano ci accomuna e quindi sono più le cose che ci mettono insieme che le cose che ci dividono ma lì non è così cioè lì si hanno proprio comunità che si incrociano e che dalla loro appunto dalla loro visione multipla dei problemi devono vivere allora forse lì veramente pensare in maniera omogenea è sbagliato mentre da noi pensare in maniera omogenea forse è più naturale però può portare a delle conseguenze sbagliate buonasera volevo chiedere la sua opinione in merito ad un aspetto lei ha giustamente correttamente collegato il concetto di cittadinanza a quello di anche diritto alla salute quindi della capacità di una persona anche quando si trova forse in stato di minorità penso ad esempio al caso Inglario di poter esprimere o lasciare espressi certi concetti la sentenza della Cassazione dell'anno scorso ha fatto ormai storia cioè quello di dare comunque rilievo anche a questi desideri seppur non scritti anche dando risalto a tali desideri per un concetto di diritto alla salute che vede al centro la dignità di una persona purtroppo sappiamo bene che una legge in Parlamento a riguardo manca manca sempre una legge sul testamento biologico volevo chiedere la sua opinione in merito all'utilizzabilità di un'altra legge che è quella sull'amministrazione di sostegno in particolare nella parte in cui prevede la possibilità di una persona di designare un amministratore di sostegno anche in vista di futuri casi di incapacità cioè quando una persona perda la propria capacità di esprimere le proprie opinioni quindi se può essere un'alternativa in questo spazio purtroppo vuoto che c'è in materia grazie buonasera mio nome è Gianfranco Denti dunque cittadinanza sottile produttori no imprenditori consumatori cosa tremenda questa cosa qui nella nostra costituzione abbiamo però qualcosa di che radica a come dire a status diversi che rende più pesante quasi la cittadinanza ed è lo status di lavoratore ecco è ancora attuale questo perché non se ne parla mai e forse per certi aspetti potrebbe persino essere in contraddizione con una visione universalistica della cittadinanza è un problema che io ho da tempo anche considerato il fatto che diciamo il fondamento del lavoro su cui è basata la nostra Repubblica ormai è un ben misero fondamento purtroppo allora sempre più difficile io comincio dalla seguo l'ordine così è più sempli più sempli si fa per dire è vero l'osservazione che lei ha fatto riguardante la disomogeneità e quello è il vero problema non è tanto il fatto di trasferire un insieme di valori dall'occidente ad altri non è quello il punto il punto vero è che in altri luoghi del mondo si confligge su queste questioni ci sono non è facile per me dare una domanda una risposta perché nelle aree che lei ha ricordato c'è un problema che non è c'è un intreccio così forte tra diritti e politica che rende poi difficile la possibilità di sviluppare il dialogo sui diritti questo è la costruzione dei diritti non è sempre nata dall'omogeneità quando gli illuministi affrontano questo problema affrontano il problema della tolleranza per esempio Montesquieu si inventa le lettere persiane Voltaire scrive Zadig o altre cose cioè loro importano in un momento in cui l'apertura dei loro libri è qualche volta sanguinolenta il trattato della tolleranza di Voltaire e il supplizio di Jean Calat se non ricordo male loro lo trovano in un ambiente che noi oggi vediamo come lontano conflittuale da lì lo sguardo diverso è quello del Medio Oriente verso l'Europa e quindi lì c'è una forte ibridazione culturale in una situazione nella quale loro ritengono di poter produrre questo tipo di elaborazione culturale in questo momento è molto difficile perché quelle sono aree di conflitto politico e militare in primo luogo e dove quindi sono alimentati anche questi scontri quindi lì io vedo la difficoltà naturalmente naturalmente io faccio un esempio ancora più concreto e diretto tutti voi ricordate o molti ricordano che la prima grande manifestazione planetaria organizzata tramite internet è stata la contestazione del WTO della riunione a Seattle dell'organizzazione mondiale del commercio in nome di una globalizzazione non attraverso come si dice poi non attraverso i mercati ma attraverso i diritti il vicepresidente del WTO che era un signore che veniva dalla Thailandia che si io ricordo il nome perché mi colpì molto e poi ho avuto modo di incontrare questo signore che si chiama Supachai disse ma questa è una delle tante trappole del mondo avanzato industrializzato occidentale per battere e mettere in difficoltà la nostra capacità concorrenziale perché solo facendo lavorare le donne i bambini non dando tutela ai lavoratori noi oggi siamo competitivi sul mercato globale quindi è vero che c'è un problema tuttavia questo significa da una parte che su alcune questioni noi dobbiamo essere capaci su alcuni punti è vero noi come dire abbiamo le spalle coperte e però proprio questo motivo ci dà un obbligo in questo momento in molte aree del mondo anche quelle così conflittuali si guarda all'Europa non tanto come una potenza economica meno che mai come una potenza militare ma come a un luogo al quale fare riferimento per queste ragioni cioè per tutelare diritti questo è un punto che gli europei purtroppo a livello istituzionale non solo dimenticano spesso la mia risposta lo so che monca ma non ho una ricetta vedo una serie di problemi cattiva politica addirittura incitamento al conflitto per ragioni anche economiche non aiutano sicuramente allo sviluppo dei diritti e nello stesso tempo le uniche armate che l'Europa legittimamente può mettere in campo sono quelle legate proprio a questo quando si è manifestato quello che ricordava la minaccia di boicottaggio per il lavoro minorile da parte di alcune imprese internazionali qualche risultato è stato raggiunto la debolezza politica in molti casi invece favorisce quel tipo di situazioni alle quali lei si è riferita seconda questione come la penso sulla amministrazione di sostegno la penso tanto bene che io devo fare dei riferimenti autobiografici che sono anche sgradevoli perché questa idea dell'amministrazione di sostegno come stanno gli studiosi questa materia nasce soprattutto quasi esclusivamente da un lavoro che è stato fatto da un gruppo dell'università di trieste intorno al professor paolo cendon che molti anni fa elaborò questa proposta io allora era parlamentare e la presentai in parlamento e anzi se mi posso permettere una piccola caduta nell'aneddotica io presentai questa proposta di legge e alla fine scrivevo questa proposta di legge è stata elaborata dal professor paolo cendon e mi chiama il segretario generale della camera e mi dice sa la presidente che era Nilde Iotti dice che queste due righe le dobbiamo levare perché le dobbiamo levare non è dignitoso che un parlamentare ammetta che una proposta è stata ma dico come io non mi posso appropriare del lavoro anzi il parlamento deve essere un canale usiamo questa espressione enfatica di comunicazione con la società e quindi io lo devo riconoscere ci fu un conflitto io dovetti minacciare di sollevare la questione in aula allora io sono quindi ovviamente d'accordo con questa linea e in più seconda riflessione in un mio libro che è stato citato del 2006 io dicevo esattamente per queste materie era possibile utilizzare l'amministratore di sostegno e allora io ne trago non solo la conclusione che per esempio le ordinate due ordinanze del tribunale di Modena una delle quali riferita oggi che ha ammesso che una persona non solo facesse un testamento biologico depositato dal notaio ma chiedesse al giudice di nominare l'amministrazione di sostegno vanno nella direzione giusta ma di queste ordinanze ce ne sono tantissime che sono state tutte sollecitate dai testimoni di Geova che nella situazione loro particolare cioè il rifiuto delle trasfusioni vogliono hanno voluto che le persone che potevano trovarsi in questa situazione vedessero nominate dell'amministratore di sostegno quindi su questa linea io sono assolutamente d'accordo però io voglio fare un'osservazione non possiamo dire allora che c'è uno spazio vuoto di diritto e che serve una legge la sentenza della Cassazione la riforma del codice civile sull'amministrazione di sostegno le ordinanze dei giudici dicono che il diritto c'è e che certo ci sono dei punti da regolare quello che mi preoccupa è che l'enfasi sul fatto che non ci siano norme serva da pretesto per avere invece una disciplina restrittiva che magari escluda che in questa materia sia utilizzabile la norma del codice civile sull'amministrazione di sostegno come è stata utilizzata la polemica del tutto gratuita sul far west procreativo che giustificava la legge 40 oggi abbiamo il far west procreativo perché le donne vanno nei paesi a rischio come ho ricordato prima io ho avuto un racconto da un mio amico che lavora in questo settore spaventoso su quello che succede in Slovenia in Ucraina dove ci sono dei voli e delle offerte da parte di cliniche come si dice a prezzi stracciati con rischi spaventosi quindi io parto da questa per questa riflessione dicendo non c'è un vuoto c'è un pieno di diritto che ha bisogno di qualche chiarimento per esempio soprattutto per mettere i medici nella condizione di non dover correre il rischio di un'incriminazione ma non più che tanto e per stabilire senza essere troppo formalisti quale debba essere il carattere del testamento biologico perché io vi faccio un'osservazione non per assurdo ma dicendo non possiamo formalizzare troppo fate l'ipotesi che c'è un testamento io faccio un testamento biologico estremamente rigoroso perfetto depositato dal notaio e via dicendo dopodiché nel momento in cui mi trovo in una situazione quella descritta dal testamento biologico viene fuori che io avevo fatto una dichiarazione televisiva una settimana prima dicendo sì ho fatto un testamento biologico però ho cambiato idea allora a questo punto che cosa vale la mia cosa del tutto informale in un'intervista oppure il dato formale e quindi qualcuno dirà no dobbiamo interrompere certamente in quella situazione la revoca informale del testamento biologico deve prepalere perché c'è una dichiarazione di volontà non equivoca quindi è su questo ma il pieno di diritto c'è ultima considerazione il lavoratore io credo che c'è ancora molta ricchezza costituzionale che noi dobbiamo da una parte riscoprire e dall'altra valorizzare io faccio sempre due riferimenti nella discussione difficile sulla dignità della persona perché si dice ma la dignità non può essere un concetto che viene adoperato per imporre a qualcuno un tipo di dignità di cui non si sente portatore l'istruzione Ratzinger di molti anni fa sulla procreazione assistita partiva dalla premessa molto rigorosa dal suo punto di vista dicendo che i vieti che noi riteniamo debbano essere osservati sono determinati dalla necessità di rispettare la dignità della donna il cui colpo non deve essere manipolato allora è chiaro che a questo punto c'è un'ambiguità se volete che la costituzione scioglie però proprio in un articolo dedicato ai lavoratori che però è una indicazione fortissima laddove si dice articolo 36 che la retribuzione deve garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa in altri termini la dignità del lavoratore non la stabilisce qualcun altro dicendo la tua dignità è soddisfatta quando io ti ho garantito la pura sopravvivenza questo è stato anche un tentativo fatto di interpretare l'articolo 36 in questo modo per fortuna respinto dai giudici no la mia la libertà è funzione la mia dignità è funzione della libertà che mi viene riconosciuta la mia dignità la dignità di una persona è costruita attraverso la libera sua capacità di governare se stesso non è qualcosa che mi viene imposta dall'esterno è qualcosa che io devo poter costruire attraverso il libero esercizio della mia volontà da quell'articolo sui lavoratori io traggo un'indicazione di carattere generale e poi il rapporto tra iniziative economica privata e diritti ecco qualcuno qualche tempo fa ha anche scritto e quando nel primo governo Berlusconi c'era un ministro della riforma costituzionale di cui non voglio neanche fare il nome perché per fortuna è scomparso dall'orizzonte si propose di abrogare l'articolo 41 della Costituzione allora l'articolo 41 della Costituzione dice cita a memoria ma è uno di quelli pochi articoli che ricordo bene l'iniziativa privata e libera non può essere esercitata in forme tali da violare la sicurezza la libertà la dignità umana ora vi rendete conto che cosa è scritto abrogarla voleva dire l'imprenditore può trascurare la sicurezza delle persone ecco lo stilicidio quotidiano delle morti sul lavoro dovrebbe dirci che quell'articolo non solo è attuale ma è attualissimo ed è il segno di una consapevolezza dei costituenti perché badate i costituenti hanno messo la sicurezza prima della libertà e della dignità sapevano che poteva esserci un contrasto radicale tra l'attività economica privata cioè il diritto d'impresa e la vita stessa delle persone lo sapevano perché questa è nella storia dei rapporti di lavoro e hanno detto prima di tutto deve essere tutelata la vita stessa delle persone allora quel fondamento che noi troviamo nella Costituzione ho citato due articoli ma ce ne sono tanti mi inducono non solo a dire che quel famoso articolo 1 l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro rimane un articolo importante ma è una chiave di lettura che se quella è una la repubblica che è fondata sul lavoro tutti gli articoli che si riferiscono al lavoro assumono una portata di carattere generale perché contribuiscono a chiarire quali sono le caratteristiche della Repubblica cioè della nostra organizzazione democratica per cui io sono un ultra della Costituzione lo dico con terminologia calcistica ma credo che sia giusto più andiamo avanti più scopriamo la lungimiranza Calamandrei lo sapete disse che la Costituzione era presbite cioè era stata capace di guardare lontano all'inizio lui stesso non aveva capito tutte le potenzialità l'importanza del contributo di Calamandrei che non chiuse gli occhi continuò a guardare al mondo e alla realtà e allora e allora quella prima parte in cui ci sono articoli che non ci sono in nessun'altra Costituzione Europea io posso dire che quando ho fatto parte lo confesso e quindi la mia difesa della Carta dei Diritti è viziata da conflitto di interesse perché ho fatto parte della convenzione che l'ha scritta ma quando abbiamo dico abbiamo perché insieme agli altri componenti agli altri italiani che erano lì presentammo alcune proposte dissero ma non esageriamo e quando noi dicemmo che quelle proposte erano la riproduzione letterale di articoli della Costituzione italiana alcuni non volevano crederci e dissero ma possibile che nel 48 siete stati così lungimiranti avete scritto nel 48 l'articolo sul paesaggio avete scritto nel 48 l'articolo sulla salute ecco allora quella è ancora una grande riserva per la democrazia e per la cittadinanza quindi quando io sento mettere in discussione la prima parte della Costituzione nella seconda parte ciò che è la strumentazione necessaria perché senza indipendenza e autonomia della magistratura quei diritti poi rischiano di essere vanificati mi preoccupo assai grazie grazie grazie